Succedere Walt Chi Walt Chi Con chi stai parlando? A me? Sai che sono io? Lo sai? Vogliamo smi No Non ci crederei Ti comunico Che io Sono io È evidente Skyler Sono io È chiaro Sono Va bene smettila Non esiste Ti prego No Non sai con chi stai parlando? No Chi pensi che è un'impresa Che è il giro d'affari di una multinazionale Che se non andassi più al lavoro Sparirebbe Chi pensi? Skyler Sono io Così le cose vanno bene Al lavoro? Sì Vogliamo riconoscere che siamo in pericolo Di punto in bianco Walt Vogliamo riconoscere che siamo in pericolo No A Skyler Non possono sparare Non senza di me Walt Io? Io? Se sparassero a chi apre quella porta Chiuderei la porta Se sparassero a me Tutti in bianco si apre la porta Sparassero a me No Porco Dio